Alle mie spalle uno scenario mozzafiato, è la spiaggia di Michelino di Parghelia, ha un tiro di schioppo da tropea, però noi siamo qui in questo splendido scenario che è tutto del comune di Parghelia insieme a tante altre cose, siamo venuti qui, c'è il sindaco insieme a me, una parte dell'amministrazione comunale a vedere come rilanciare anche sul piano delle immagini questa area territoriale, questa comunità e soprattutto questa grande opportunità per la Calabria. Parghelia appunto, vi aspetto questa sera alle 23, l'inviato speciale, la CTV. Grazie. Grazie.